Due ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dello stesso procedimento dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno nei confronti di 11 persone. Per 9 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri 2 gli arresti domiciliari, ritenuti promotori, affiliati o agevolatori di una nuova associazione mafiosa armata, il cosiddetto clan Batti, operante nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e zone vicine. Le 11 persone risultano indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzioni illegali di arma da fuoco, estorsione e violenza privata aggravate dal metodo mafioso e dallo scopo di favorire il clan Batti. Alcuni collaboratori di giustizia avevano rivelato che già nel 2008 i Batti erano stati autorizzati dal clan Fabrocino a spacciare stupefacente a San Giuseppe Vesuviano, dietro versamento di una quota di proventi allo stesso clan. 11 arresti in campagna, così le forze dell'ordine hanno colpito una nuova associazione armata che faceva affari con la droga, grazie alle donne, agli uomini indivisi e agli inquirenti. Non abbassiamo la guardia e giovedì sarò a Napoli, lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.